Il primo confronto diretto fra i due candidati presidenziali americani si è risolto in una serie di attacchi personali. Un disprezzo mai sentito nella politica americana, scrive New York Times. Il peggior dibattito elettorale mai visto, sottolineano i media britannici. Le bordate sono giunte da entrambi, fra interruzione ed insulti. Non è stato risparmiato l'attacco sulle tasse, tasto dolente per il presidente in carica, e su cui è stato criticato negli ultimissimi giorni. Toglierò Italia le tasse fatti da Trump e le investirò per la gente che ha bisogno di aiuto, ha rimarcato Biden, che in seguito, sui contrasti fra il suo partito e le sue politiche, è stato lapidario. Il partito democratico sono io. Sulle rivolte che hanno scosso l'America, Trump ha risposto a mezza bocca sui suprematisti bianchi, non condannandoli direttamente, ma invitandoli a fare un passo indietro, ed ha poi incalzato sulla sinistra radicale. Qualcuno deve fare qualcosa relativamente agli antifa. Questo è un problema di sinistra, non di destra. Sul voto postale, Trump insiste, sarà una frode. Sul Covid, Biden ribadisce la necessità dell'uso delle mascherine da qui a gennaio, mentre Trump sottolinea le contraddizioni del suo stesso consigliere Anthony Fauci. Prima ha detto che non servivano, poi ha cambiato idea. Grande assente la politica estera, con l'eccezione della Cina, appena menzionata nel contesto del Covid. Un silenzio assordante, ma probabilmente verrà affrontata nei prossimi dibattiti. A 35 giorni dal voto, i sondaggi suggeriscono un lieve vantaggio di Biden, ma in molti stati chiave i numeri parlano di un testa a testa, e un americano su dieci è ancora indeciso. Insomma, il dibattito non sembra aver aggiunto nulla di nuovo e la partita è ancora tutta aperta. Israele non esclude un attacco preventivo contro l'Iran. Se gli iraniani intendono stanziarsi nel nord, noi siamo pronti a combatterli. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, martedì 29 settembre, durante la cerimonia commemorativa della guerra dello Yom Kippur del 73. Sempre Netanyahu, utilizzando una tattica ormai familiare, durante il discorso rivolto all'Assemblea Generale dell'ONU ha mostrato una mappa di Beirut, ha ricordato l'esplosione di agosto e dichiarato che il movimento libanese Hezbollah, alleato di Teheran, possiede dei depositi segreti di missili nei pressi dell'aeroporto internazionale di Beirut, nell'area di Janà. Non solo, si è lasciato andare a predizioni. Il deposito è vicinissimo ad una compagnia di gas, ha avvertito. Potrebbe verificarsi un'altra tragedia. Invito la popolazione di Janà a protestare. Vi usano come scudi umani. Secondo un comunicato dalle forze militari armene, martedì 29 settembre, un caccia F-16 turco ha battuto un jet Su-25 dell'aeronautica armena, mentre era in corso un attacco a zero nella regione di Arsak. La Turchia smentisce. Allo stesso modo, il presidente dell'Azerbaijan Ilam Aliyev, il quale afferma «non vi è alcun coinvolgimento della Turchia nel conflitto, se non sostegno morale a Baku». Le voci che l'Armenia sta diffondendo a riguardo sono provocazioni. Il Ministero della Difesa armeno, riporta il canale libanese Al Masdar, ha successivamente diffuso in serata un video in cui si mostra l'abbattimento di due elicotteri appartenenti alle forze militari dell'Azerbaijan.